Mi scusi, c'è sushi per te, c'è sushi per te, sei tu veni a Milano e non posso che andare da questa qua, da Zanza, da Zanza Sushi, ci vediamo da Zanza Sushi, no, io qua la Sushi, lo sopporto solo da 20 anni, ma mi ha rotto così tanto questo, l'ho creata, la distruggo, ha pure, capisci, ma lei lo sa, sempre sta riconoscendo, Ma se sei pensionato, ma vuoi stare zitta, andare in pensione e non rompere i coglioni a me, a noi che lavorià, è invidioso, è tutto invidioso, invidioso! Per la consegna, vai, vai a portare, vai, vai a portare, vai a portare, vai a portare il globo, veloce, vai, vai! Tu lo devi portare pensionato, io il lavoro ce l'ho! Dall'altra parte di Milano, Stefano Miele, Rom Federico Massaro, Vittorio Menozzi, eccolo qua che si fa il karaoke, mentre se ci spostiamo a Napoli, continua la serata di Ciro Petrone con Alessio Canzoni, Anita Olivieri, Maddaloni, Barbara Petrillo e famiglia. Eccoli qua, che mangiano bene, una la faccia nostra, photoshoot professionale di Paolo Masella, wow sta benissimo, e chiudiamo così con questi scatti, ciao!